L'esperienza di oggi è stata molto interessante perché parliamo tantissimo di trasformazione digitale, di PNRR, ma vederla attuata in pratica in una realtà internazionale come Ferragamo è veramente importante. Si capisce l'effetto che può dare la trasformazione digitale. Poi anche gli interventi della giornata dove in pratica si è mostrato come è importante trattare il dato, come il dato può dare dei risultati sia in termini di maggior produttività che in termini di maggior mercato è stato veramente interessante. Devo anche dire questo, spesso in eventi di questo tipo c'è una certa distanza tra il relatore e chi partecipa. Ecco, invece oggi abbiamo vissuto tutti insieme, chiamiamo l'esplorazione, l'esplorazione dello stabilimento di Ferragamo. Siamo tutti insieme poi ci siamo ritrovati qua in hotel a parlare di questi elementi importanti.